Buongiorno da Michelino DJ Pensa Radio 67 Allora guardate ragazzi la coppia stanno entrando ora proprio per celebrare questo matrimonio incredibile il norvegese e il pensionato di fan Notizia bomba, tappale di rotonde, bloccato tutto il traffico per la fiera mercato di oggi è un problema generale, stanno cercando di liberare tutti gli spazi ci siamo conosciuti insieme